Ma dov'è Fred? Bene bene Gigio Chi sei? Colui che stai cercando Fred! Gigio, senti interessante Bastardo! Perché indietreggi? Ma come? Io mi ero avvicinato Sei solo un codardo Se ti trovi qua è soltanto per mio volere Marco mi aveva detto che tu hai una proposta Ho l'impressione che voi ci state sottolotando Secondo te perché ti trovi qua? Perché io volevo essere qui Ti sbagli? Normalmente non potresti disobbedire ai loro di tuo padre Sei sotto l'effetto delle pillole ancora Ma... ma allora? Io sono più potente di qualsiasi cosa che esista Tutto ciò che avviene, avviene perché sono io a volerlo Sei solo un megalomane Gigio, attaccami con tutta la tua potenza allora Fammi vedere di cosa sei capace Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti Nello scorso episodio di YouTube Man Sergi si ritrova di fronte a Mazzò E lo vuole far ritornare nel team Mazzò tuttavia non è d'accordo Piuttosto che stare con una mandala di coglioni come voi Preferisco starmene solo E quindi tu per tutto questo tempo ci hai preso in giro Ed è così Mi hai sempre guardati dall'alto verso in basso E i due iniziano a lottare Mazzò inizia a picchiarle incessantemente Ma Sergi in tutto questo non oppone resistenza Mi rifiuto L'esito del duello ormai è chiaro E Sergi cade a terra a mezzo morto A che? E tu? Chi sei? Io sono riusciti Non ti riesco a capire Non capisco un cazzo Parla italiano Io sono andato a quello su Tomenico con Nikita E io non ho aiuto Vedi con i yarda città Mi stai già dando sui nervi Cine Cazzo 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 non importa cosa tu stia farneticando io ho un compito io ho un compito aspetterò qui mazzo nel frattempo io rimarrò qui non perderò e non morirò andata non chiedi qui dai su da te cai sembra che sia ok Oh Wari da A tamaga okashi A tamaga okashi O te shuha kare okashi o mi okashi tau Kare no mi Kare no mi Yakido nozu Anata wa mochihara o mochi maseen Aaaaaaah Ya hasu giri Do you have to be a special one? Nanè Possibile Anata wa a huku koro su tami ni Susu Tsumari desu Tenchi ni mottomotto teki shita shi Cacciatoria, eccomi qua Oh ma guarda che sorpresa Twitch Mi aspettavo tu un pretendo Mi accontenteva Incredibile Lo diceva Fred che era un esperimento fallito Ma non pensavo così tanto fallito Sta zitto, dannato, psicopatico di merda Non voglio sporcarmi troppo le mani Ragazzi, facciamolo Ma Grazie Gemma Rancor no Ketsugo Pagis la mutanza Questo è il potere delle mie catene E evitano che ci sia lontani troppo dal punto in cui è stata subita la maledizione Questa è la tua fine Ok Ma tu come hai? Io sono la gemma della realtà Faccio questo ed altro Non chiamarmi con quel nome Inginocchiati Non voglio Impressionante Hai disubbidito il mio ordine Martina, ci penso io a richiamarla all'ordine Ho un'azza al cuore Se provi a ribellarti mi mangerò la tua anima E devo dire che non vedo l'ora Ma tu eri stato mangiato da Gigio Hai detto bene Ero Devi sapere che Gigio è nato al cospetto di Fred E che Ma Ma Gigio Lo so che sei venuto qui per uccidermi Ma ci sono tante cose che li spero Sputa il rospo Non sei Dan Non sei stato scaldato dalla luce per questo problema Anzi Sei speciale tu E allora perché? Perché sei un bastardo Mentre Sofia è nata normalmente Da Lucia Tu sei nato da uno stupro con Elena Sei talmente speciale Che saresti stato un candidato perfetto Per essere youtuber Purtroppo Sergi è venuto prima di te Posso darteli ora Mi riallunga più potenti di quelli di Sergi Più potenti di quelli di chiunque Ma Ok Fred Devo vendicarmi di mio padre Non chiamarlo padre Non se lo merita Da oggi Sarei io tuo padre se tu lo vuoi Padre Però mi sono accorto di una cosa Tu hai mangiato il mio servitore Rov Ed è ancora vivo dentro la tua pancia Vorrei Riprendermelo È stato terribile vivere nella pancia di Gigio Ma ora grazie a Dio è tutto finito Io ho anche scoperto di aver ottenuto il potere della giamma dell'animo Forza ragazzi Attacchiamoli Volentieri Moltiplicatore di danni Overhit Data dell'animo Editto temporale Che ridicolo Gravità Per mille E vabbè Vuoi una Effetto Effetto Buffard Az che potenza Merda Ma Runde quanto è forte Si mette male E che palle Scoperto di nuovo No Ma flame Figlio mio Mi dispiaceva quando gli altri ti attaccavano Sai perché Perché ti voglio molto bene E in quanto fallimento è mio compito punirti Vai flame Lasciami in onore di mangiargli l'animo Fermati Non ti ho dato il permesso Cazzo è finito Se è un incosciente Nessuno Potrebbe affrontarli tutti da solo E tu chi sei? Io sono già Supereroe Maestro di Sergi Sei senza le tue spade Samurai Impossibile Non posso restare qua Mentre Sergi mi aspetta là Grazie Sono insaporito E adesso levati Io Devo tornare in quel posto Su Danie Guarida Danie Rusergiacumi Cine Sergi 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 Muori Tu Mi 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 Io sono inizio a costruire. Su. Io ho detto... ...che l'avrei... ...aspettato qui. Devo restare sveglio. Se dovessi tornare in questo momento... ...non potrei... ...vederlo. Devo. Devo. Mazzò... ...s'è arrivato. Però ha un po' in ritardo. Cosa? Cos'è che ti turba, Mazzò? Io non ti ho chiesto di aspettare. Fai delle promesse... ...e ti aspetti che gli altri facciano lo stesso. Che ci posso fare io? Sono egoista. Ora che sono tornato da te... ...ti prego, vai a casa. Ma cosa stai dicendo? Torna cazzo! Eh no, Bibi, già te l'ho detto. Io non torno. Non torno. E perché? Sì. Il leader del team YouTube Man... ...ha fatto gli sanifici in ordine per... ...vi niente a prendere. E io l'ho insultato e picchiato... ...con tutte le mie forze nonostante... ...lo stesso opponendo... ...resistenza. Perciò... ...a questo punto... ...direi che non posso tornare con voi. E mia madre, la mia famiglia... ...è ancora ostaggio del Duce. Perciò... ...comunque... ...trovo ingiusto... ...il fatto che... ...che questo essere sia nel pieno. E per riprendermi mia madre... ...devo intrufularmi... ...ne rifugio del Duce. Per fare tutto ciò... ...devo stare da solo. E io al Duce non devo nulla. Provo solo rancore per quel rifiuto umano. E io non posso vivere la mia vita... ...facendo finta di nulla. E queste... ...sono le tre ragioni per il quale non tornerò. E se lo hai capito... ...o se mi capisci... ...ti prego... ...non tornare... ...in senso l'altro. ...e... ...ha... ...dimmi cosa provi davvero! ... ...sergi... ...io voglio tornare nel team YouTube. ...commen... ...io vorrei farlo... ...ma non ho il coraggio... ...non potrei più... ...dipendermi di mia madre... ...ma non so se capisci quello che intendo... ...io vorrei aiutarti... ...ve lo farò. Beh Mazzu... ...in fondo tu sei fatto così... ...però... ...sei in un team... ...ti aiuteremo noi... ...ci riprenderemo tua madre... ...e poi... ...andremo a uccidere Fred. ...e poi... ...verrò... ...la dimostra... ... ah... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non essere impulsivo. A me lo dici. Qua siamo tutti seri. E perché questa serietà? Sergi, quel ragazzo fa paura. È come se scappasse dal tempo. Tu intanto cacciatore hai un compito da portare a terra. Tornerò vittorioso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.